Ha patteggiato due anni e 400 euro il giovane di Est finito sotto processo per acquisto di banconote false attraverso internet che poi venivano spese sul territorio. Era stato arrestato poco più di un anno fa al termine di un'indagine che aveva previsto anche dei controlli su di un conto corrente. L'acquisto delle banconote false avveniva tramite bitcoin.